Io sono Cristina Chioda, sono socia e dipendente della cooperativa sociale AEPER. Lavoro presso il servizio Rente Famiglie che si occupa di affido eterofamiliare. Mi piace della cooperativa la sua capacità di non fermarsi di fronte alle difficoltà e avendo sempre e trovando idee innovative e creative. Cosa auguro alla cooperativa per il suo futuro e per i prossimi anni? Auguro alla cooperativa AEPER di avere sempre un pensiero attivo e propositivo ma di non perdere mai di vista il punto di partenza che dovrebbe essere anche il punto di arrivo e cioè il benessere della persona nella sua totalità.